Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Come vedete dalla grafica, il respiro dell'inverno tornerà probabilmente a farci visita da giovedì con un deciso abbassamento delle temperature. Questo sarà dovuto all'afflusso di aria gelida proveniente ancora una volta dalla Scandinavia che andrà a interagire con una bassa pressione che si formerà fra il 4 e l'8 marzo proprio fra la Francia e la penisola iberica. Questo richiamo umido di questa bassa pressione andrà appunto a interagire con quest'aria molto fredda e probabilmente la neve potrà fare la comparsa fino a bassa quota a partire da giovedì e le temperature subiranno una sensibile diminuzione. Ma andando invece al tempo di domani, vediamo appunto che una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico pilotata da una struttura depressionaria fra la Francia e le isole britanniche si avvicinerà al nord Italia. Quindi avremo un deciso peggioramento del tempo già a partire da questa notte in Valle Seriana e avremo i primi fenomeni. Fenomeni che saranno a carattere nevoso, a quote medie, intorno ai 1000-1200 metri di altitudine. Poi questo rapido passaggio frontale andrà verso il sud dell'Italia e il tempo andrà migliorando a partire da lunedì anche sul nord Italia. Se osserviamo l'immagine da satellite di oggi, osserveremo appunto questa vasta circolazione depressionaria sulle isole britanniche in spostamento verso Levante e quindi anche sulle zone della Valle Seriana il tempo andrà gradualmente peggiorando. Andando quindi al dettaglio del tempo per domani, nella zona dell'Alta Valle Seriana Valle di Scalve avremo già le prime precipitazioni in mattinata. Precipitazioni che assumeranno carattere nevoso oltre i 1100-1200 metri di altitudine. Le precipitazioni saranno comunque piuttosto deboli e prevediamo accumuli intorno ai 1300-1400 metri, intorno ai 5-10 centimetri. Per la zona della medio-bassa Valle Seriana, Lago Diceo, avremo appunto una giornata piuttosto uggiosa di stampa autunnale con quota delle nevicate invece sul settore prealpino più meridionale compreso fra i 1300 metri della mattina e i 1500 metri del pomeriggio. Poi in serata avremo le ultime deboli piogge sulle zone settentrionale della Valle Seriana seppur in miglioramento e un deciso miglioramento invece a partire dai settori occidentali della Valle Seriana, dalla Valle Brembana, dove si affacerà qualche schiarita sempre più ampia a partire dalla notte. Se passiamo all'evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana osserveremo appunto una giornata in prevalenza soleggiata nella giornata di lunedì. Lunedì appunto avremo qualche locale velatura e temperature che saranno abbastanza miti per il periodo comprese fra 2 e 10 gradi. Martedì avremo una giornata in prevalenza soleggiata con temperature comprese fra 1 e 7 gradi. Attenzione perché, come dicevamo in precedenza, il tempo andrà peggiorando e assumerà sempre più caratteristiche invernali a partire da mercoledì. Infatti mercoledì l'irruzione di questa aria gelida proveniente dal nord Europa apporterà le prime avvisaglie di un peggioramento, peggioramento che si concretizzerà nella giornata di giovedì quando avremo i primi fenomeni, questi fenomeni che assumeranno carattere nevoso localmente fino a bassa quota intorno ai 500-700 metri di altitudine. Quindi ci attendiamo giovedì sera qualche spruzzata di neve probabilmente che raggiungerà anche la piana di Clusone. Poi venerdì avremo un nuovo miglioramento del tempo, però come vedete le temperature saranno decisamente rigide di stampo invernale, comprese fra i meno 2 gradi di minima e massime che non andranno oltre i 2 gradi di massima zero termico che dai 2100 metri di lunedì sarà in progressiva diminuzione fino ai 1000 metri di altitudine di venerdì. Poi per il prossimo fine settimana avremo ancora un tempo tipicamente invernale e non escludiamo occasione per nevicate fino a bassa quota fra sabato e domenica. Ma per l'evoluzione della settimana prossima vi aspetto qui su Antenna 2 sabato prossimo.